pace vespertina fu probabilmente uno dei dipinti più significativi di matteo olivero pittore originale della valle varaita la tela fu commissionata da tancredi nel 1908 e oggi fa bella mostra di sé insieme al bozzetto preparatorio all'interno del museo il panorama che ha come punto di osservazione madonna della riva ritrae le rive del gesso e la frazione di spinetta l'opera fu realizzata da olivero ispirandosi alla tecnica divisionista e cioè estendendo piccoli filamenti di colori diversi che poi nella veduta di insieme vanno a comporre il cielo le montagne e il paesaggio l'opera fu più volte esposta e apprezzata da critici e collezionisti tanto che verso la fine degli anni 20 anche l'importante collezionista torinese riccardo gualino entrò in contatto con alice per valutare l'acquisto la trattativa però non ebbe seguito e l'opera è ancora oggi esposta nelle nostre sale